Ben ritrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. L'afflusso di aria umida meridionale, oggi martedì e domani mercoledì, prelude al peggioramento previsto per giovedì, quando una perturbazione nord-atlantica si approfondirà sul Mediterraneo occidentale influenzando il tempo. Anche sulla Liguria andiamo nel dettaglio. Oggi martedì 30 gennaio, nuvolosità bassa e diffusa con possibili locali e deboli piovaschi, venti deboli di direzione variabile, qualche rinforzo da nord e sulle zone centrali in serata, mare da poco mosso a mosso, temperature massime in diminuzione, lungo la costa tra 12 e 14 gradi nelle zone interne intorno a 10 e 11 gradi. Domani mercoledì 31 gennaio nel corso della giornata si intensifica il flusso da sud-ovest con nuvolosità, diffuse e possibili deboli precipitazioni più probabili sul centro Levante. Non si escludono temporanee schiarite a Ponente, venti deboli di direzione variabile al mattino, qualche rinforzo fino a moderato da sud sul Levante. Al pomeriggio deboli meridionali con rinforzi fino a forti in serata sul Levante. Mare mosso in crescita fino a molto mosso in serata per onda da sud-ovest, localmente agitato a largo, temperature minime in diminuzione lungo la costa intorno a 9 e 10 gradi nelle zone interne tra 5 e 7 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 11 e 13 gradi nelle zone interne intorno a 8 o 9 gradi. Chiudiamo con giovedì, primo febbraio, coperto con deboli precipitazioni più probabili sul centro Levante. Al mattino possibili temporanee schiarite a Ponente, venti forti da sud-sud-ovest con raffiche di burrasca sui capi esposti di Ponente e sul Levante. Dalla sera graduale attenuazione. Mare molto mosso a Ponente per onda da sud-ovest agitato sul centro Levante in calo nel pomeriggio. Temperature minime stazionare lungo la costa tra 8 e 11 gradi nelle zone interne tra 5 e 8 gradi, massime stazionare lungo la costa tra 11 e 13 gradi nelle zone interne intorno a 8 o 9 gradi è tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!